Buonasera, sono Laura Antichi, vediamo ora come creare un sito per le classi utilizzando Google Sites, bisogna avere un account Google e io lo faccio da un ambiente G Suite e andiamo nelle app di Google e cerchiamo Sites. Mia chiede se voglio la nuova versione di Google Sites e sicuramente clicco sulla nuova versione. Qui abbiamo la possibilità di aprire un progetto vuoto oppure di utilizzare i template messi a disposizione. Apriamo un Google Sites nuovo, più o più. Google Sites rappresenta una vetrina e un portfoglio delle attività della classe. Può essere utile per raccogliere i materiali didattici come repository e per mettere a disposizione risorse e link. Serve per organizzare la didattica e promuovere la consultazione. Si può creare un Google Sites per tutte le classi o per ciascuna classe. Interessante è che Google Sites si integra con tutti gli altri strumenti di Google e con Drive. Questa è l'interfaccia. Andiamo a inserire il titolo che sarà formazione passare. Il titolo può corrispondere al nome del sito oppure essere diverso. Infatti non possiamo mettere qui formazione e didattica. Vedete che ho la possibilità di una minima formattazione del testo e posso aggiungere anche un link. Cambiamo l'immagine dell'infestazione. Possiamo caricare un banner oppure selezionare un'immagine. Selezioniamo un'immagine. Ho la possibilità di scegliere l'immagine nella galleria tramite URL attraverso la casella di ricerca negli album o in Google Drive. Scelgo la ricerca con Google e scrivo Sassari. Per avere un'immagine di Sassari. Cerca. Mi piace questa prima immagine panoramica di Sassari. Clicco e seleziono. Ecco che l'immagine mi compare nel banner. Potrei ripristinare l'originale e cambiare il tipo di infestazione. Come copertina che mi restituisce un'immagine molto ingrandita come banner grande, quindi un banner che è più grande di quello di default, il banner di default oppure il solo titolo. Scelgo il banner di default che mi sembra sufficientemente ampio e descrittivo per il sito. Ho la possibilità poi nella barra laterale destra di modificare il tema. Posso scegliere tra i vari temi che mi vengono proposti. Semplice, Aristotele, Diplomatico, Visio, Liscio, Impressione. Preferisco il semplice però cambio il colore. Mi piace questo colore proposto. Potrei scegliere anche altri colori attraverso il secchiello. Poi scelgo anche lo stile del carattere. chiaro, classico, scuro. Lascio quello di default. Qui abbiamo la rotellina in alto, la rotellina delle impostazioni che mi serviranno magari più tardi per poter impostare la navigazione. Ma la rotellina mi serve anche per mettere ad esempio un banner degli annunci. se il sito fosse ad esempio in costruzione potrei mettere un annuncio sito in costruzione. potrei quindi dare un colore a questo banner. Scegliamo questo e chiudendo ecco che ho l'annuncio che mi viene posizionato in alto nella page. Ritorno nella rotellina in banner degli annunci e tolgo la visualizzazione del banner. Perché adesso non mi interessa implementarlo. Ora vado nella parte sinistra ad aggiungere un logo. il logo posso caricarlo, selezionarlo e lo posso seleziona ad esempio, mi dà la possibilità di ricercarlo tramite URL. Ricerca immagini di Google. Per esempio potrei ricercare icone. Vediamo che cosa mi restituisce. E scegliere una delle icone con calma che mi vengono proposte e che possono essere significative e rappresentative del sito. Ecco vediamo se troviamo un'icona che ci possa tornare utile. Facciamo scorrere ancora queste icone. Va bene, metto una lampadina. No, sono due lampadine e queste non le piacciono neanche tanto. vediamo di trovarne una migliore. Se non ne troviamo una migliore, chiudo, chiudete e andate in carica dal vostro computer e sicuramente ne troverete una che fa il caso vostro e che potrete quindi implementare. metto questa building, apri, ok. Quindi ho inserito e vedete comparire qui il logo. che poi potete andare a modificare scegliendone uno adatto. Ora vediamo come si inseriscono i vari elementi. Posso inserire una casella di testo solo nella home page. Quindi qui posso scrivere il mio testo. ho scritto formazione. Mi da la possibilità di scegliere tra testo normale, titolo e testazione. Lo scelgo come titolo e lo metto in grassetto. vedete che lateralmente ho la possibilità di cestinare questa casella di testo. Di duplicare la sezione perché il testo e ogni contenuto mi vengono messi in sezione. oppure di cambiare lo sfondo della sezione aggiungendo un'immagine, caricandola oppure semplicemente con l'emfasi 2 colorando il sottofondo appunto della sezione. Andiamo poi a caricare delle immagini. Posso caricare delle immagini dal computer oppure selezionarle. Vado in seleziona. Posso selezionare l'immagine tramite URL, Google ricerca immagini, foto, Google Drive. Vado in Google ricerca delle immagini e scelgo Sassari per inserire ad esempio Sassari Mare per inserire una foto. Seleziono una foto di mio gradimento e vado a inserirla. Posso poi spostare secondo una griglia piuttosto rigida ma che poi permette una perfetta visualizzazione dai vari device, spostare l'immagine. Inserirla come mi pare e posso naturalmente ingrandirla o rimpicciolirla a mio piacimento. Posso poi aggiungere, avrei potuto comunque utilizzare anche il layout che mi dava la possibilità di inserire l'immagine con del testo, vedete qui, alla vostra destra. Lo faremo successivamente. Sposto l'immagine lateralmente alla mia sinistra e poi aggiungo dall'altro testo, casella di testo. Il testo potrebbe essere questa, questa è la descrizione del luogo della formazione. Ok? Come vedete posso formatare il testo, testo normale, titolo, intestazione, sottointestazione o piccolo. Lascio il testo normale, magari lo rendo, lo seleziono, posso poi la casella di testo rimpicciolirla e posso anche, a dire il vero, spostarla qui. Questa è la descrizione del luogo della formazione, trascinandola. Posso poi utilizzare un layout per l'inserimento qui di, posso caricare un file e selezionare un'immagine da Drive, da YouTube, dal calendario e dalla mappa. Seleziono un video, ad esempio, per fare una prova da YouTube, quindi, e qui mi chiede di mettere il link del video. Inserisco il link del video, ho preso un link a caso, seleziono e mi vedete comparire il video. Qui posso modificare il titolo e scrivere il video tutorial. Tutorial E dall'altra parte posso selezionare un'immagine. Seleziona un'immagine o caricarla o da Drive. Posso, beh, facciamo, mettiamola da Drive, dal mio Drive. Il mio Drive, scelgo un'immagine qualsiasi per prova. E scrivo, inserisci. Qui posso scrivere nei mondi virtuali. Quindi ho inserito una casella di testo, delle immagini da Drive e posso anche incorporare, e, posizionandomi qui, incorpora col codice HTML un file. Infatti mi dice che posso incorporare dal web tramite URL o incorporare utilizzando un codice embed. Ho cercato il codice embed di un qualsiasi file in Slideshare, lo incollo. Vado avanti e vedete che mi ha inserito la presentazione del Slideshare. Faccio inserisci e quindi qui ho potuto inserire proprio la presentazione sulla ripetizione nelle attività proposte dal docente. Posso naturalmente modificare, eliminare il riquadro. Posso anche mettere uno sfondo della sezione. Ecco, ho messo il sottofondo alla sezione per distinguerla dalle altre. Posso anche mettere una serie di immagini, carosello, utilizzando questo layout, ma quello che mi preme ho la possibilità ora di aggiungere, quello che è molto interessante, aggiungere delle pagine. Aggiungo delle pagine e che mi verranno poste sotto la home page con il più nuova pagina. La nuova pagina potrebbe essere dove siamo. E quindi la pagina dove siamo mi compare qui. Poi potrei inserire dentro questa pagina dove siamo, dentro la pagina dove siamo, vedete che dove siamo. Posso inserire tutti gli elementi precedenti, cioè inserire quindi il carosello delle immagini, YouTube, il calendario. Inseriamo una mappa, ad esempio, Sassari. Ecco, Sassari. Seleziona. E vedete che nella pagina dove siamo mi ha inserito la mappa. Poi potrei inserire del testo dicendo come raggiungo, eccetera, eccetera. Ritorno nella home page. Aggiungo un'altra pagina. Questa pagina la posso chiamare classe, classi, classi, fine. Me la posso, vedete che ho la, quindi la pagina classi, questa che ho appena creato. Potrei creare, ve lo faccio vedere in due modi. Un'altra pagina chiamata, aspettate che la porto magari qui, vedete che con il trascinamento posso quindi spostare le varie pagine. Posso creare un'altra pagina, esempio, classe prima. Questa mi viene messa sotto, allo stesso livello delle altre pagine, ma io voglio che mi compaia invece come pagina secondaria di classi. Quindi trascino la classe prima in classi e vedete che ho creato una pagina secondaria e che nelle classi, nel banner, mi viene la classe prima. Posso comunque aggiungere una pagina secondaria, creando una classe seconda ad esempio da classi. Clicco sui tre puntini, aggiungi pagina secondaria e qui scriverò classe seconda e così via. Quindi ho creato una classe seconda che mi viene posizionata dentro le classi. Il ritorno in home page, questa è la navigazione, come vedete, e potrei da classi andare nella classe prima e la classe seconda. Ogni pagina, prendiamone una a casa, può ottenere attraverso l'inserisci, quindi tutti quanti gli elementi che abbiamo avuto, visto precedentemente. Ritorniamo nella home page, voglio creare un'altra pagina che si chiama moduli, moduli, facciamo test, quindi ho inserito questa pagina, la voglio comunque togliere, elimina, ok, vedete che l'ho eliminata. Vado allo stesso livello della home page e a creo, quindi la pagina test, vediamo. Mi è risultata quindi questa pagina, l'ho trascinata in alto perché mi veniva, me l'aveva posizionata sotto la classe seconda. Come vedete, potete spostare gli elementi e renderli primari o a secondari. Vado in test, come vedete, vado in inserisci e in inserisci posso aggiungere un modulo. Quindi un'esercitazione, un popper ad esempio quiz che avevo realizzato e vado in inserisci. hai già risposto, va bene, visualizza punteggio, ne inseriamo un altro, qui non ho risposto, quindi vado questo, perché l'avevo fatto che potevo rispondere solo una volta, vado, va bene, in moduli e inserisco ad esempio Sartre, inserisci. Ecco, questo non avevo ancora risposto e quindi queste sono le domande a cui posso rispondere e inviare il mio questionario. per mostrarvi tutte quindi le opzioni che ho anche con l'integrazione di Google Drive. Posso naturalmente inserire video anche nelle teste YouTube, eccetera, posso inserire dei pulsanti, delle presentazioni e così via. Ritorno in home page, era per farvi brevemente vedere come funziona il tutto. Se il menu che noi vediamo posizionato in alto al sito fosse troppo lungo e ingombrante, potrei andare nelle impostazioni e in navigazione. Potrei invece di selezionarlo in alto, metterlo laterale, quindi la navigazione avverrebbe in questo modo dalla barra laterale. Chiudo la barra laterale, vado in impostazioni e risposto per il momento il menu in alto, come l'avevo a posto. Ora, come vedete, tutte le modifiche sono state salvate in Drive. Questo è il sito che posso poi vedere come anteprima, come lo vedono gli altri. Quindi, come anteprima, ecco, vedete, come navigazione, test, dove siamo, con la mappa, le classi, classe prima, classe seconda. Ritorno nella home page e quindi ora posso andare a vederlo anche come si vede nel cellulare, tablet, schermo grande e così via. Chiudo l'anteprima, ritorno al mio sito e vado a pubblica. L'indirizzo web del sito, dovrò mettere qui su pubblica l'indirizzo web del sito e chi potrà visualizzare il mio sito, posso poi gestire con l'aggiungo di persone o gruppi. Ad esempio, se metto ad esempio una persona e do la possibilità a questa persona di visualizzare solo gli elementi pubblicati o di essere anche editor, posso aggiungere anche degli editor, quindi ho delle possibilità di condivisione. Ecco, scrivo l'indirizzo web, formazione. Riservate, quindi metto chat. Ok, questo me lo prende e quindi come vi dico lo pubblico così lo può avere gestito chi può scrivere o vedere il sito pubblica. Quindi il sito è stato pubblicato. Ora posso andare in pubblica, vedere le impostazioni di pubblicazione, rivedere le modifiche e pubblicare, visualizzare il sito pubblicato o annullare la pubblicazione. Impostazioni di pubblicazione, vedete che sono queste che avevo messo e quindi nulla. Poi, poi rivede le modifiche pubblica, non sono presenti le modifiche e quindi torna all'editor e visualizza il sito pubblicato. Questa è la visualizzazione del sito come è stato pubblicato. Posso andare nella pennina e ritornare indietro per modificare questa pagina. E quindi ritorno di nuovo nell'editor della pagina. Posso copiare il link del sito pubblicato andando in questa icona, copia il link e inviarlo. E' tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti.